Bella raga qui Danifra e benvenuti all'episodio 6 di Glitchcraft E questo episodio sarà anche una specie di Reston Tutorial Perché vi insegnerò come cammandare l'acqua e la lava Che cazzo succede qua? L'acqua e la lava con la Reston Quindi passiamo al glitch Allora qua avevo fatto una prova per vedere se funzionava E' un po' in casino Allora come prima cosa dovete creare il vostro canale No ok ho sbagliato che figata Dovete creare il vostro canale che da qui partirà la vostra acqua E andrà di qua e poi fare i suoi viaggetti E di qui è dove non volete che l'acqua vada no? Quindi voi scavate profondo Quanto profondo? Scavate se qua sarà già di uno Quindi dovrete andare giù di altri tre Quindi scenderete di tre E dovrete avere due spazi di sopra Quindi si di tre E dovrete fare Dovrete andare due volte avanti E poi fare una semplice scaletta Per uscire da sto buco A me non servirebbe anche se posso volare Però è giusto per mostrarvi E poi qui sarà dove la vostra acqua Ok deve andare dall'altra parte Qui sarà dove la vostra acqua Andrà e magicamente vedrete che la vostra acqua c'è Si ferma qui Così all'improvviso Non lo so perché Succede Succede comunque E se voi tipo la vorrete far attivare Vedete che se io levo il blocco qui a fianco L'acqua riscende di lì no? Ma se io chiudo qua E ci metto della reston A fianco L'acqua Per sorprendente magia magia Non va giù Quindi E quando noi Daremo energia A questa reston Che è collegata possiamo dire All'acqua o la lava Quello che volete Io faccio con l'acqua solo perché Non voglio bruciare come un coglione Quando Noi Eh si adesso ho sbagliato perché ho messo altra reston Vedete comunque se tipo fate uno sbaglio Vi basta mettere Un blocco qui Sotto All'acqua Al stesso livello sotto dell'acqua E uno sopra così Risetterete la vostra La vostra robetta qua Quindi quando voi Avrete questo Piccolo circuito diciamo Di reston Potrete Comandare Se si può dire La vostra acqua Cioè La vostra direzione di acqua o di lava Quindi adesso Che La reston è spenta possiamo dire L'acqua non scende di lì Ma se io premo il pulsante Vedete che magicamente Scenderà giù di qua E Boh Per risettarla Questa cosa Mi basterà mettere un cubo lì Un cubo ancora sopra Puoi romperli E il gioco è fatto Quindi Quindi niente Quindi Se vi interessano altri tutorial Sul reston Allora Ti devo dire due cose Allora Una Se vi interesserebbero Altri tutorial Sul reston Che li abbiamo incominciati Ma li abbiamo un po' lasciati da parte Eccetera eccetera E anche se vi interessa Su un tutorial Su come costruire Una trappola Per mob Che li faccia sia spawnare Sia agli animali Questi qua Dove Non ce n'è Quella Tipo pecore Mucche Anche i lupi Quindi di tutto E E faccia spawnare anche Quelli Quelli Cattivi Possiamo dire I mostri Quindi se vi interessa Tutorial su questo Mob spawner doppio Possiamo dire Mob spawner fatto in casa Più che altro E Scrivetemelo nei commenti E Non dimenticate di mettere Mi piace E Commentare Iscrivervi Con questo vi saluto Bella raga Qui Danifra Bella raga Qui Danifra E Benvenuti all'episodio 6 Di Glitchcraft E